La musica che accompagna l'intero ciclo della vita, iniziando addirittura prima della nascita. L'ultima sfida dell'associazione Voci in Canto è infatti proprio quella di anticipare il primo incontro tra le sette note del futuro nascituro, proprio all'interno del grembo materno, in un percorso preparto studiato per accompagnare madre e figlio con serenità verso lo speciale momento del parto. La prima funzione è il gruppo, non sono tanto io ma che le mamme si incontrino perché sono la loro potenza e questo lo riconosce la stessa mamma. In secondo è utile perché qui parliamo di fisiologia, quello che può andare bene e come potenziare quello che può andare bene e la musica viene qui perché la musica aiuta proprio a far nascere le proprie emozioni che se rimangono poi all'oscuro in un momento come un travaglio possono esplodere e creare tante cose. Il cammino a fianco della musica ovviamente non si esaurisce con la nascita del neonato, sono infatti numerosi ed articolati percorsi di scoperta e conoscenza della musica per bambini, ragazzi ma anche adulti messi in campo dall'associazione, ovviamente partendo proprio dall'attività corale. L'associazione Voce in Canto è nata come associazione corale, quindi è nata con dei bambini che ora sono diventati grandi, alcuni genitori poi hanno deciso di fare questa esperienza sempre utilizzando la propria voce e quindi abbiamo sia adulti sia bambini molto piccoli e adolescenti insomma grandi. La voce è lo strumento con cui nasciamo, è uno strumento d'oro che tutti noi abbiamo e quindi qui viene proprio stimolato l'attività appunto di cantare insieme, di condividere questa esperienza tutti insieme. Quest'anno insegniamo anche pianoforte, vorrei precisare questo che a me piace sempre molto, molti mi chiedono quando bisogna cominciare, a che età è giusto cominciare a suonare uno strumento, ecco quando il bambino lo chiede, quindi quando il bambino decide che è il momento giusto questo è il momento più opportuno.